Ciao ragazzi, un nuovo appuntamento. Purtroppo il cappello è arrivato all'allocchiti, quindi sono senza. E iniziamo, vai! Allora, ultima lezione dell'anno ragazzi, 22 dicembre, ultima. Allora, solito circuito, 5 esercizi, 25 secondi di esercizio, 10 in pausa. Mi servono i pesi, eh? Quattro pesi? Due pesi, due bottiglie da un metro e mezzo e vanno benissimo. Facciamo partire il tempo. 10, primo esercizio è un tocco, tocco, balzo. Via! Via! E vediamo, non mi sono un punto in mano, questo è una cosa che non lo sentiamo. Vai, buono, salva, via! E... Oh, quindi, tocco, 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 e via! Vediamo tutti il cappellino di Natale, adesso siete potenti. Vai, dai che ci siamo. Allora, ultimi secondi. Ultimo. e sto. Prendiamo i pesi in mani. Facciamo gli stanchi con uno squat. Due esercizi diversi di l'altra mano. Siamo giù. Giù. Porto su. Squat. Scendo. Completamente. Qua. Squat. Scendo. Giù. Buon lo stacco. Vengo. Squat. Bravissimo. Bene lo stacco, ragazzi. Lo vediamo bene con la schia. Buona. Ok. Adesso facciamo i piegamenti con spostamento laterale. Piegamento sottilassico con i principi. Posizione d'addombo. Prendiamo la mano. Prima o femmina? Prima. Ragazzi, questo è pesante, eh? Fatto così è pesante. Allora. Lorenzo, poi, tra l'altro, mi fa tutti lunghi. Ok. Eh. Non possiamo fare bene. Ultimi cinque secondi. Dai, ragazzi. Vai. Cinque secondi. Dai. Forza, ragazzi. Dai. Va benissimo. Plank alto. Con spostamento laterale del peso. Per la spalla. Via. Plank alto. Sposto laterale del peso. Con la mano opposta. Brava. Il lavoro è per passare sempre all'interno, eh? Sempre all'interno. Ora qua. Perfetto. Dieci secondi. Ci siamo. Forza, forza, forza. Allora. Allora. Allora, due. Ultimo. Stop. Addominare. Sit down. Plastico col peso. Stiamo bene. Prendo il peso al centro. Sul petto. Benissimo. Calma. Uno. Due. Giù. Su. Uno. Due. Giù. Con calma. 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 Vai. Giù. E questo è il quarto. Cinque. Sei va bene, eh? Eccolo qua. Va benissimo. Sette. Ok. Ricominciamo. Il primo esercizio. Il croce salto. Il primo esercizio. Perfetto. Eccolo. 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 Un'altra cosa. Eccolo. Uncimo. Stacchi. Stacchi e squat. Peso bene. Giù bene. Stacchi. Stacchi e squat. e va giù e va schiena direttamente ragazzi guardate scende risale direttamente scuono scendo risale direttamente scuono avete visto che c'è? è l'occhietto con il capellino è con noi stiamo sentito il capitolo laterale vado lì pettorale allé 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 posta ho he ho he ho he ho he he ho he ovviamente ok flank alto spostamento delle spalle via flank alto vai ok muo want to Sì. Buona lavoro sulle spalle. È sempre il braccio interno che prendi. Il braccio interno che prendi. Dai che va bene. Dai che va bene. Ora, grazie a tutti, ci siamo pensati al miniatà. Questo è un periodo, come ricordate, parlavamo di quello che si mangiava, dove si andava. Quest'anno, mi indietro questo. Grazie. Buona. Ultimo. Sentiamo. Un gioco. Vieni, vai bene. Non abbiamo neanche fatto noi la festa, ragazzi. La prima volta in 25 anni di storia. Non abbiamo fatto la festa. Però ce ne facciamo, eh. Bisogna avere solamente un po' di pazienza e fiducia. Gritta e passione. E non vogliamo. Forza. 8 secondi. 7. 6. Ultimo. Stop. Bravo. Bravo. Bravi figli. In croce basso. Noi. Terzo giro, ragazzi. Terzo giro. Siamo a metastrada. Terzo giro. Sì che ci siamo. E... Via. Piano piano noi. Hello Kitty. Tutto bene? Grazie. Ma che bene. Forza. 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 E su. Andiamo. Ultimo vai. Un più di due secondi. su. E stop. Bene. Giù. Vai. Tiro. Squat. Due esercizi diversi. Guardi con calma. Via. Giù. Su. Su. Squat. Giù. Su. Squat. Tendiamo bene il peso vicino alle gambe. quando scendo. Eh. Meno male ci fa la spetta. Stop. Va bene. Ok. Piega. Metastrada. Bene. 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 Forza. Dai. Situazione difficile ragazzi qua eh. Fa freddo. Tutti gli esercizi dei favori. Dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare. Le motivazioni sono pronte. Però. Bisogna resistere. Va bene. Parli alto. Parli alto. Parli alto. Forza. Dai. Vai. Bisogna avere serenità. Finuncia. Pazienza. Alle. Forza bene. Forza bene. Andiamo. Venti. Oppa. 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 Sì che ci siamo. Dai. 5 secondi. 4. 1. E stop. Bravissimo. 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 Ultimo esercizio della terza. Giro. Sit up. Vai. Vai. Chiudo. Alle. Oppa. Giù. Oppa. Giù. Bravissimo. Dai. Dai vai. Dai. Dai vai. Dai. Sì. Sì. E ancora. Andiamo. Ultimo logico. Ultimo. Stop. Ok. Ultimo giro. Incrocio e pazzo. Ultimo giro. Ultimo giro. Forza ragazzi. via. Uno, due, eh. Uno, due, eh. Uno, due, eh. Uno, due, oh. Fil. Fil. Là. Qua. Su. Tempo. Vado! Veniamo! Su! Corascola! Stacchi e scopo, stacco e scopo. E questo è chi? E poi già facciamo stare. No, 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 va bene. Va bene, allora, mi farò stare. Facciamo sempre i scherzi che davvero io. Invece, mi fregazza. Guarda che i ragazzi non ci guardano, per farlo con una bottiglia che è un intervento. E quindi più di più. Eh, guarda, hai detto anche bene anche. Eh, guarda, guarda. Poi, attenzione, come altro ci sono anche delle bottiglie da due ditte. Voilà, stop, piegamento. Poi che io voglio fare con il mano di prosecco? Allora, ancora di più. Ogni eserci, sempre 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 di più. Prego in sere mano, per braccio. Sì che ci siamo. Vai, vai, vai che ci siamo. Vai, grazie, vai. Forza, tre secondi. Due secondi. Un secondo, bravi e vici. Ok. Spaniamo, 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 spaniamo. Adore. Dai. l'ultimo dai, alle, eccolo qua eccolo, vai qui dai bravo e iniziamo alle alle 5 secondi, 6 secondi 5 secondi un secondo stop ultimo, ultimo della serie ultimo della serie e abbiamo finito il primo giro grandissimi forza, città, piano l'olio e senza fretta, inizio e uno, due e giù e uno, due e giù e uno, due e giù forza e oh e oh e tempo ancora forza, 5 secondi noi che riporta ultimo ci vediamo per un secondo a dopo a dopo a dopo a dopo